ecco il cerfino e albero stanno vivendo logicamente questa cosa ha cambiato tutte quante le abitudini di tutta la popolazione ma penso che questa sia una cosa generalizzata per tutti quanti logicamente nei vari step dei vari dpcm che sono usciti sono uscite poi le varie ordinanze che anche io stesso ho emesso e l'hanno affrontata gradualmente fino ad arrivare negli ultimi 15 giorni dove si è realmente capito che per combattere questa epidemia è l'unico modo era quello di rimanere in casa questi 15 giorni non abbiamo avuto problematiche in marito infatti proprio la cittadinanza ha risposto in maniera compatta e logicamente la paura è tanta anche se per fortuna noi abbiamo solo un caso che è un caso tra l'altro che è ricoverato per cui non è diciamo in diretto contatto con il territorio ormai sono passati anche più di 15 giorni quindi diciamo la tempistica di 14 giorni canonici che dicono da parte del ministero da parte della regione dei contagi sono passati per cui stanno vivendo un attimo di tranquillità logicamente è difficile sentiamo tanta gente perché le classiche passeggiate che si facevano siamo paesi di campagna e come paese di campagna della bassa pianura avevamo questa attività che veniva svolta quotidianamente e anche da un punto di vista sociale perché naturalmente ritrovi che c'erano nei vari nei vari ambienti nei vari circoli si sono venuti a chiudere per cui manca la cosa principale secondo me che manca all'interno del territorio questo questa vita diciamo un po sociale dove anche ci si poteva scambiare una parola naturalmente visto che la regione veneto tra basso luis anche ha messo a disposizione dei punti di ascolto anche noi stiamo cercando di partire con qualche punto di ascolto perché logicamente la popolazione sentiamo che anche semplicemente quando ci chiama in comune per chiederci alcune delucidazioni sentiamo che oltre alle delucidazioni che noi diamo ha voglia di parlare ha voglia di stare lì di capire di parlare un po di tutto del più del meno della giornata quotidiana che dire speriamo che che la cosa si risolva presto logicamente noi abbiamo deciso se anche negli ultimi giorni stanno dicendo che stiamo cercando di passare la fase 2 abbiamo deciso di mantenere la restrittezza come amministrazione il più possibile per proprio per evitare che ci siano dei contagi quindi noi abbiamo deciso che fino al 13 di aprile manterremo con rigore quelle che erano le direttive date inizialmente